Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Io scrivo a mano con una matita, amo le penne stilografiche, così mettiamo subito qualche distanza rispetto a una serie di altre cose e volevo fare l'archeologo, volevo fare l'archeologo e avevo una idea che il senso dello scoprire, il valore dei sapere, fossero tutte cose che ci permettevano, permettevano a me di interpretare che cosa avrei poi fatto. Non so se fosse una malattia di famiglia, mio nonno era un asseriologo, non l'ho mai conosciuto, lui ha visto me che ero piccolissima ma io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, in realtà ho scoperto dopo che era un importante asseriologo perché per ragioni legate alla guerra era scappato negli Stati Uniti, però a me era venuta questa idea di fare l'archeologa. Questa idea di fare l'archeologa mi ha dato alcuni privilegi, so che siamo a Roma, io sono milanese e mi sento molto milanese perché lì sono nata e vissuta, perché se dovessi guardare alle mie origini sarebbe più complicato trovare un punto a cui attaccarmi e a Milano c'è una straordinaria università che è la Università Statale che ha un bellissimo cortile che è il cortile del Filarete e quando si aveva la fortuna di fare lettere classiche in quell'università si poteva studiare nel cortile del Filarete, oggi non lo so com'è, allora era assolutamente così. E mi sono capitate delle cose in quell'università, una che ho dato un esame con una professoressa con cui si era laureato mio padre, ho avuto un'improvvisa sensazione di un tempo che si era fermato, un'altra mi ha cacciato dall'esame perché ero in Blue Jeans e secondo lei non si poteva presentarsi agli esami così. Era un ricorso nella mia storia perché invece in terza media quando guardavo dalle finestre il liceo Berset di Milano dove era in corso il 68, noi eravamo invece scuola femminile pubblica ma femminile perché allora c'erano ancora delle scuole differenti per sesso, avevamo la circolare della preside che spiegava che non si poteva andare a scuola in pantaloni e quindi ho la sensazione che l'abbigliamento abbia riguardato una delle fasi di trasformazione della mia esistenza e della dimostrazione che c'era un conflitto in qualche modo che era in corso. Però poi non ho avuto il piacere di proseguire in tutto questo perché mentre ero in questa università, mentre facevo un po' un lavoro anche un po' noioso, facevo la segretaria di redazione, facevo delle cose per mantenermi agli studi, ho incrociato il voler poter studiare, non il mio che avevo da questo punto di vista la fortuna di potermelo giocare e poi ho sbattuto la porta di casa, me ne ero andata da sola, me la cavavo da sola ma avevo come dire molte chance che potevo permettermi ma invece il diritto e il desiderio di studiare di coloro che non avevano potuto studiare. Io sono per età figlia della prima grande riforma dell'istruzione del nostro paese, quella che determina la scuola unica, quella che ha chiuso la lunga stagione in cui se avevi dei mezzi potevi andare alle medie e quindi poi potevi immaginare di studiare ulteriormente e se invece non ce li avevi, se andava bene andavi all'avvento se no cominciavi a lavorare e quindi nella mia esperienza scolastica l'idea era che il diritto allo studio ci fosse, il diritto all'istruzione ci fosse, mi parlavano di obbligo scolastico, io facevo parte di persone che avevano fatto l'obbligo scolastico e invece ho scoperto una cosa assolutamente per me sconcertante allora, che quelle cose che magari avevo studiato, che c'era stato l'analfabetismo, che il diritto all'istruzione non c'erano, non erano un antico tema di studio, erano le persone intorno a me. L'analfabetismo non era un fenomeno sconfitto, era la condizione di tantissimi lavoratori e lavoratrici che avevano rivendicato, siamo nel 1973, io sono all'inizio dell'università, avevano rivendicato e ottenuto in un contratto nazionale di lavoro il diritto a riprendere la possibilità di studiare e con uno slogan che era straordinario, forse molti non se ne ricordano, ma era anche un operaio posso lanare il violino, cioè non è detto, non può essere che la tua condizione lavorativa di storia e di istruzione ti precluda la possibilità di accedere a degli altri mondi. E nasce una cosa che si chiama 150 ore, che era per tantissima parte l'accesso ai diploma di base, alla scuola elementare e alla scuola media, per chi appunto era analfabeto o analfabeta di ritorno, ma era anche la possibilità di frequentare le università d'Italia in corsi monografici e quello che, come dire, è un crociatoio, era un corso di critica d'arte, con una professoressa straordinaria che rese disponibile questo strano andamento di corsi in cui c'erano contemporaneamente gli iscritti alle università e operai, operai e lavoratori e lavoratrici che provavano a capire che cosa vuol dire fare critica d'arte magari non avendo alle spalle di istruzione. E apre un mondo, è stato poi per un po' di anni il mio mondo perché sono diventata coordinatrice per il sindacato dei metalmeccanici milanesi di questa attività, di questa passione, di questa invenzione che quotidianamente facevamo del mettere insieme, bisogna farle elementari e bisogna immaginare che si può suonare il violino piuttosto che andare a ingegneria e domandarsi che cosa vuol dire essere dentro un ciclo produttivo ed è stata per me una straordinaria esperienza che mi ha detto due cose. Una, come passa la libertà per le persone, poi lo spiegherò rapidamente rispetto al lavoro, e l'altra che ci sono delle condizioni che ti permettono di immaginarti di essere in una grande democrazia oppure no. E una di quelle condizioni è se hai l'accesso all'istruzione, perché sennò si raccontano tante cose ma non si sostanziano. Perché era una straordinaria libertà? Perché anche qui parlo di una cosa che forse è parla antica nel tempo ma nei luoghi di lavoro si lavorava a cottimo. Il sapere fare i conti era essenziale. Sapere fare i conti nel lavoro a cottimo era essenziale per sapere se e come maturava la tua retribuzione, se e come ti intensificavano la produzione, ti intensificavano i ritmi e il cottimo era un calcolo complesso. Io ho incontrato nella mia esperienza operai che avevano delle capacità matematiche quasi scientifiche, magari non avendo alle loro spalle nessuna istruzione, ma ho scoperto anche cosa vuol dire conoscere delle persone che invece non sapevano calcolare il cottimo e che quindi si sentivano non libere, non in grado di decidere, non in grado di interpretare, sottoposte al fatto che gli altri potevano decidere per te. Un giorno mi hanno raccontato una storia che quando poi si parla di queste cose si scopre anche che magari ci sono delle persone che non possono prendere i mezzi pubblici perché non leggono i numeri e non sanno quindi dove questi posti devono andare. Io ho scoperto cosa vuol dire non riuscire a leggere il numero di una metropolitana in Giappone quando ho scoperto che in alcune stazioni sono scritte solo in giapponese e lì era un bel, però appunto anche lì per noi era forse più semplice che misurare quella cosa e allora ho messo insieme delle cose, ho lasciato gli studi e non sono laureato, ho abbandonato il mio sogno di fare l'archeologa, ho continuato a leggere, a studiare, ho un grande amore per lo studio ma non sono diventato un archeologa, nemmeno un archeologa industriale come qualcuno sfottendomi ogni tanto mi dice ricordando le mie origini anche perché l'industria è un luogo in perenne mutamento quindi l'archeologia è di ciò che non c'è più, non di ciò che si trasforma, ma ho invece scoperto che cosa vuol dire avere passione per la libertà nel lavoro, che vuol dire che il lavoro non è solo retribuzione, il lavoro è poter essere liberi, potersi essere esprimeri, ho saputo cosa vuol dire e so tuttora che cosa vuol dire avere un rapporto di dipendenza positivo o avere un rapporto di servitù perché sono due cose assolutamente differenti, ho scoperto che quando ci raccontano i grandi processi di innovazione noi abbiamo inseguito le discussioni sul toyotismo, su questo e su quell'altro, poi in realtà tanta parte di quei processi erano appropriarsi del sapere dei lavoratori delle trasformazioni che nel lavoro ognuno fa e quindi in realtà non c'è mai un lavoro davvero statico, il problema è se quella trasformazione ti viene riconosciuta oppure no, nel lavoro dipendente spesso non viene riconosciuta ma si trasforma in innovazione, in cambiamento dell'organizzazione del lavoro, in cambiamento del modo in cui produci e penso che sia una straordinaria libertà invece rivendicare che quel cambiamento ti venga riconosciuto e ho cominciato a mettere insieme il fatto che bisognava stare dalla parte giusta, adesso la dico proprio nel modo banale, bisogna stare dalla parte di chi prova a difendere i suoi diritti, prova a avere lo stesso spazio, prova a non essere penalizzato in ragione del fatto che magari non ha una rendita, non ha una famiglia, non ha delle risorse e ha provato a raccontare la sua vita e anche magari del diritto di chi ha voglia di giocare quella vita in quel modo e non facendo dell'altro. E ho scoperto che per fare tutto ciò bisogna non ragionare mai come singoli individui. Tante occasioni mi hanno chiesto ma come sei diventata segretario della CGL e continuo a non saperlo davvero del tutto ma ho una certezza, se non ci fosse stata una grande organizzazione collettiva delle donne dentro la CGL, la CGL non avrebbe avuto dopo cent'anni un segretario donna mentre tutti quelli prima erano uomini. E quindi ho scoperto il grande valore della dimensione collettiva decidendo di stare da una parte, quella di quelli che vogliono che il loro lavoro non sia semplicemente avere un reddito a fine mese ma sia un pezzo del loro progetto di vita, della loro realizzazione e quindi hanno bisogno di unità e di solidarietà. E quindi l'ultimo cambiamento della storia, della lunga storia che ha attraversato tanti lavori, fare sindacalista non è un solo lavoro e farne tantissimi in contesti diversi è stato dire va bene, siamo di fronte a una società che si è grandemente cambiata, lavori che cambiano a modalità diverse. Proviamo a ritornare al punto che sono comunque tante persone ed essendo tante persone dovrebbero avere dei diritti non per il tipo di contratto che hanno ma per la condizione che hanno e da qui è nato il nostro ultimo grande progetto che è la Carta dei Diritti Universali cioè dell'idea che nessuna tecnologia abolirà mai il fatto che ci sono delle persone che devono avere dei diritti dei riconoscimenti delle loro condizioni. Ho fatto tutto questo con un unico rimpianto io penso di aver avuto una vita straordinaria privilegiata, continuo ad averla, sono ancora viva ho un unico rimpianto che io ho sempre amato il mare, ho sempre amato la vela ho sempre pensato che quello fosse un luogo straordinario ma penso che quell'esperienza lì mi abbia insegnato due cose fondamentali rispetto dei ruoli e gioco di squadra, ovvero un paese che ha delle regole e si approverà a scommettere su se stesso. Grazie Applausi Grazie 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 Grazie